Rinvio necessario visti gli impegni improrogabili del direttore dell'ASP di Cosenza, Raffaele Mauro. Queste le ragioni che hanno indotto l'assessore alla salute pubblica del comune di Scalea, Marcello D'Amico, a rinviare a mercoledì 7 settembre il tavolo operativo per discutere della delibera che riorganizza il CAPT di Praia Mare. La riunione si sarebbe dovuta svolgere il 29 agosto. Non cambiano le modalità, ha precisato D'Amico. L'incontro si terrà sempre al comune di Scalea alle 11 del mattino e al fianco dei sindaci della riviera dei Cedri siederanno il direttore dell'ASP di Cosenza, Raffaele Mauro, e la direttrice del distretto sanitario dell'Alto Tirreno, Giuliana Bernaudo. Uno slittamento che stempererà anche i toni della polemica sorta tra D'Amico e il sindaco di Praia Mare, Antonio Pratico, si spera, ha detto l'assessore, il mio intervento era necessario perché in questo momento dobbiamo rimanere uniti e dobbiamo risolvere con tutte le nostre forze le gravi carenze strutturali dell'area di emergenza-urgenza del CAPT di Praia Mare. Ma come ribadito in più occasioni non è solo il presidio della città dell'Isola Dino che sta soffrendo, ma tutta la costa tirrenica, anche nei punti di pronto soccorso di Belvedere Marittimo e di Cetraro, si soffre e fa fronte alla domanda di cure immediate, soprattutto nel periodo estivo, ed è stato drammatico. Le segnalazioni ci giungono da tutti i fronti. Drammatiche anche le condizioni presso l'annunziata di Cosenza. Nel 2015, ha scritto Carlo Guccione, gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale sono stati più di 82.000, in media 239 al giorno, numeri che dai primi sette mesi del 2016 risultano tendenzialmente in aumento. Ma il dato eclatante è che oltre il 65% di questi accessi è composto da codici bianchi e verdi, che non dovrebbero essere gestiti dalla rete sanitaria del territorio. Un dato che deve far riflettere sia perché il presidio di Cosenza è diventato meta di tanti viaggi della speranza partiti proprio dal CAPT di Praia Mare, sia perché mancano strutture, uomini e mezzi in grado di dare le più basilari cure ai calabresi, se non è questa emergenza.